Tra le tante richieste che ogni tanto mi arrivano per fare dei video su un periodo storico, su un filosofo, una di quelle che torna più spesso ultimamente è quella che riguarda il conflitto nord-irlandese. Cioè molti mi hanno chiesto di spiegare come mai tra la fine degli anni 60 e la fine degli anni 90 ci siano stati tensioni, scontri, quasi una vera e propria guerra civile, forse una vera e propria guerra civile, nell'Irlanda del nord, tra cattolici e protestanti sostanzialmente, con partecipazione delle forze armate britanniche. Perché? Per come? Ok, ne parliamo, però bisogna parlarne con qualche premessa. Oggi parliamo della storia dell'Irlanda, breve riassunto, fino al 1968 sostanzialmente, quando iniziarono questi scontri molto forti. Perché serve fare un po' di premessa, senza questa premessa storica non si capisce cosa è accaduto poi in quel trentennio di guerra civile strisciante, di conflitto permanente che attraversò l'Irlanda del nord. Quindi oggi, storia dell'Irlanda fino alla metà del Novecento. Andiamo a cominciare. Con sozzo di caffè nella solita tazza andiamo a cominciare, che mi hanno regalato i miei studenti. Con me ci sono, come al solito, i miei compagni d'avventura, le mie mascotte. Topolino, Tostoi, Batman, De Andrè, e là in fondo il mostro peloso, io mi chiamo Romano Ferretti. Su internet noto anche come Scripps, sono un insegnante di storia e filosofia, insegnone nel liceo scientifico di Rovigo, e da quasi due anni sto realizzando su questo canale delle video spiegazioni che seguono più o meno il programma di storia e di filosofia che si fa alle superiori. Però poi di tanto in tanto si lanciano in approfondimenti, in cose che si fanno magari all'università, in cose che possono andare bene anche alle scuole medie, in questioni che invece sono più curiosità storico-filosofiche o approfondimenti che possono interessare chi si occupa anche per passione e per diletto di queste discipline. Quindi, se vi interessano la storia e la filosofia, vi consiglio di dare un'occhiata in descrizione a questo video dove trovate le playlist principali e qualche collegamento utile, e poi anche nella pagina del canale dove trovate centinaia e centinaia di video. Oggi parliamo di storia, come vi dicevo nella premessa, l'obiettivo è quello di arrivare a parlare soprattutto di storia contemporanea, della storia dell'Irlanda nel nord nella seconda metà del Novecento e magari fare anche un video che parli dell'Irlanda del nord oggi con la Brexit, con le questioni tra Irlanda, Repubblica d'Irlanda, Irlanda del nord, Regno Unito, eccetera. Ma per affrontare questi temi, che sono temi importanti, complicati, delicati, bisogna fare qualche necessaria e inevitabile premessa storica. Quindi il video di oggi sarà dedicato essenzialmente a ripercorrere, molto velocemente, a grandi linee, la storia dell'Irlanda fino alla metà degli anni del Novecento, fino a 1968, diciamo che è l'anno cardine in cui iniziano i primi conflitti, le prime rivolte. Quindi partiamo dall'antico, partiamo da molto indietro, andrò via veloce, non ci starò troppo, ma lo faccio perché di Irlanda abbiamo parlato ogni tanto nel corso del nostro percorso storico, ma proprio per cenni qua e là, perché non ha mai avuto ruolo di primaria importanza quest'isola nella storia europea, ha vissuto spesso anche un po' staccata dal resto d'Europa. Però facciamo un po' il punto. Allora intanto l'Irlanda era abitata fin dai tempi più antichi da popolazioni celtiche, i gaeli in particolare, che per primi abitarono l'Irlanda e dietero segno della loro civiltà. Ma l'Irlanda generalmente fino in realtà alla fine dell'età antica, all'inizio dell'età medievale, visse molto isolata dal resto d'Europa, senza grandi contatti, senza grandi influenze reciproche. Le cose cambiarono soprattutto all'inizio del Medioevo, quando l'Irlanda venne sostanzialmente convertita al cristianesimo, grazie all'opera di alcuni monaci, in particolare del più importante, di San Patrizio, che è ancora oggi il protettore. Sapete bene, quando si celebra San Patrick, San Patrizio è il simbolo stesso dell'Irlanda. Ecco, questo monaco, insieme ad altri, fu il principale responsabile dell'evangelizzazione dell'Irlanda e della sua conversione dal paganesimo al cristianesimo, che avvenne appunto dalla fine dell'età antica e dall'inizio dell'età medievale. Da quel momento in poi, l'Irlanda diventò cattolica, anche piuttosto rapidamente, e rimase cattolica per molto tempo ancora oggi. L'Irlanda, nella sua maggioranza, è di religione cattolica. Gli stessi irlandesi sparsi per il mondo, pensate agli irlandesi in America, ad esempio negli Stati Uniti, dove costituiscono anche una comunità piuttosto importante, rimangono fedeli al cattolicesimo per lo più. Quindi, questa è la storia antica. Poi, attorno al undicesimo, xix secolo, iniziarono anche i primi forti contatti con l'Inghilterra, isola vicina, l'isola britannica intendo, con soprattutto inglesi che si spostavano verso l'Irlanda, viaggiando verso l'Irlanda, e iniziarono a colonizzarne alcune zone. In realtà, all'inizio, in maniera molto estemporanea, discontinua, senza un vero e proprio preciso impegno da parte inglese nella colonizzazione dell'Irlanda, le cose cambiarono soprattutto nel Cinquecento, quindi all'inizio dell'età moderna, quando tutta una serie di fattori spinsero gli inglesi a cercare di allargare i loro domini. Fattori quali? Beh, intanto la navigazione era molto migliorata, intanto è l'epoca delle grandi scoperte geografiche, che è l'epoca dei primi traffici commerciali intensi al di fuori del Mediterraneo, anche nell'area di Mari del Nord, è l'epoca in cui la stessa Inghilterra comincia ad affacciarsi a nuovi orizzonti, potremmo dire. In particolare, il sovrano inglese, che più di tutti si impegna in questa colonizzazione dell'Irlanda, è Enrico VIII, ve lo ricorderete. Vi metto in descrizione anche il video in cui parlavo di Enrico VIII. Enrico VIII è un re famoso soprattutto per la nascita della chiesa anglicana, per le sue mogli, per i suoi divorzi, per le condanne a morte delle sue mogli, ma fu anche un re che si impegnò molto nella conquista e colonizzazione dell'Irlanda. Fu proprio Enrico VIII il primo sovrano che si proclamò anche re di Irlanda, segno di un interesse nuovo, importante e fondamentale degli inglesi verso quest'isola. Effettivamente dall'in poi, fino all'inizio del Novecento, l'isola irlandese fu sottoposta al dominio degli inglesi. C'è da dire però che se Enrico VIII aveva conquistato quest'isola, quindi aveva unificato le due grandi isole britanniche, in realtà questa unificazione fu unificazione fino a un certo punto, perché proprio durante il regno di Enrico VIII, come vi avevo appena accennato, l'Inghilterra si staccò dalla chiesa romana con la nascita della cosiddetta chiesa anglicana. Una chiesa che nasce inizialmente per motivi contingenti, per la necessità del re di ottenere un divorzio, ma che poi, soprattutto con gli eredi di Enrico VIII, pensate soprattutto a Elisabetta I, prende tutta una sua direzione, incorporando al suo interno anche elementi della dottrina protestante, della teologia protestante, dei riti protestanti e così via. Quindi l'Inghilterra nel giro di qualche decennio diventa protestante, anglicana, ma protestante, anche se c'è un mix strano di diversi elementi. La Scostia stessa in quel periodo lascerà il cattolicesimo, diventerà presbiteriana per lo più, e quindi l'isola britannica principale, quella più importante dal punto di vista economico e politico, lascia il cattolicesimo. L'Irlanda, che è stata da poco assoggettata dall'Inghilterra, diventa, o meglio, resta invece cattolica, resta tenacemente cattolica. Quindi abbiamo due popoli, il popolo irlandese e il popolo inglese, unificati sotto la corona inglese, ma che mantengono delle differenze molto forti. Differenze geografiche, perché il popolo irlandese si trova per lo più in Inghilterra e il popolo inglese si trova in Inghilterra, che vanno poi attenandosi, perché molti inglesi si trasferiscono in Irlanda e iniziano a colonizzare dei territori dell'Irlanda, soprattutto la parte più settentrionale. E però la differenza non è più solo etnica, diciamo, di provenienza geografica, io sono inglese, tu sei irlandese, ma è una differenza che si sta configurando anche come una differenza religiosa, perché gli irlandesi rimangono a sagrande maggioranza cattolici, gli inglesi diventano a sagrande maggioranza protestanti. Queste differenze che vengono posti in essere cementate nel corso dei Cinquecento esplodono verso la fine del Seicento. Lì c'è un primo caso, non è l'unico, ma un primo caso emblematico su cui vale la pena risoffermarsi. Ricorderete che nel Seicento in Inghilterra avvengono due grandi rivoluzioni. La prima attorno alla metà del secolo, anni 40 del secolo, con la guerra civile, ricorderete quella che porta poi al governo di Cromwell e alla fine della monarchia la proclamazione del Commonwealth, cioè della Repubblica, e la seconda circa 40 anni dopo nel 1688-89 con il braccio di ferro tra Giacomo II, Stuart e Guglielmo di Orange che sbarca in Inghilterra e di fatto, invitato dal Parlamento, assume i poteri, diventa nuovo sovrano inglese. Questa seconda rivoluzione, di cui il link vi metto in descrizione se volete guardarvela il video, ve la spiego più in dettaglio, lo trovate sotto, questa seconda rivoluzione viene solitamente chiamata dalla storiografia inglese gloriosa rivoluzione. Gloriosa rivoluzione. Perché gloriosa? Perché è una rivoluzione che, al contrario della guerra civile di 40 anni prima, avviene sostanzialmente senza spargimenti di sangue, si dice normalmente. Nel senso che Giacomo scappa quando si vede che la situazione gli sta sfuggendo di mano, quando vede che il Parlamento sta chiamando qualcun altro, scappa e Guglielmo arriva senza colpo ferire a Londra e si fa proclamare re insieme alla moglie Mary. Questa, in realtà, gloriosa rivoluzione è una rivoluzione pacifica fino a un certo punto a guardare meglio le cose. Perché è vero che Giacomo II, il sovrano, scappa e tenta a cercare rifugio in Francia grazie all'aiuto di Luigi XIV con cui è imparentato, eccetera. Ma in realtà c'è un tentativo di rivalsa di Giacomo poco tempo dopo. Tra il 1689 e il 1690, infatti, Giacomo organizza uno sbarco in Irlanda dove conta di potersi riorganizzare e poter attaccare Guglielmo d'Orange e cacciarlo dal trono. Questo è il progetto. Infatti, Giacomo II sbarca proprio in Irlanda, perché non in Inghilterra? Perché l'Irlanda è cattolica. Come abbiamo detto, principalmente cattolica. E Giacomo II, il sovrano cattolico, alla fine è stato cacciato proprio perché il Parlamento inglese a stragrande maggioranza protestante e l'Inghilterra a stragrande maggioranza protestante è preoccupata, l'Inghilterra e il Parlamento con lei, di un re cattolico che potrebbe mettere in piedi una discendenza cattolica e potrebbe tentare di ripristinare il cattolicesimo e l'assolutismo. Quindi, se Giacomo vuole tentare di riprendere il potere, deve passare per quella parte del suo territorio, del suo ex-territorio, che più sembra d'accordo con lui, che più sembra dalla sua parte. Questa parte è l'Irlanda. L'Irlanda è cattolica e l'Irlanda non vedeva affatto male l'idea di avere un sovrano cattolico. Quando Giacomo II sbarca in Irlanda, cerca di organizzare le sue forze lì, in Irlanda di mettere in piedi un esercito grazie anche al sostegno francese e di poter così attaccare Guglielmo d'Orange che si è installato sul suo trono, che si è messo in piedi sul suo trono e riprendere in mano il potere. Questo porta a una guerra, quindi c'è spargimento di sangue in realtà, anche se non tanto in Inghilterra quanto di più in Irlanda, un conflitto armato tra l'esercito di Giacomo II e l'esercito di Guglielmo III, questo conflitto si concretizza in particolare nella battaglia del Boeing combattuta nel 1690 in cui in realtà Giacomo II viene sconfitto, quindi il tentativo fallisce. Viene sconfitto, Giacomo poi lascia l'Irlanda, torna in Francia e rinuncia a ogni speranza di potersi riprendere il trono. Quindi vince Guglielmo III che di fatto era già re e ristabilisce ancora meglio il suo potere. Ma è emblematico quello che accade in Irlanda in questo conflitto. L'Irlanda si schiera in grande misura dalla parte di Giacomo II, però in realtà effettivamente già si assiste a una divisione del popolo irlandese, nel senso che la stragrande maggioranza degli irlandesi si schiera con Giacomo II, ma nel nord dell'isola, più o meno nella zona che oggi costituisce l'Irlanda del nord, in realtà c'è un cospicuo gruppo di protestanti che ormai si sentono irlandesi perché magari sono figli dei coloni inglesi arrivati lì da un secolo, che parteggiano invece per Guglielmo III, stanno dalla parte della corona inglese che si è ormai instaurata a Londra. Quindi capite che l'Irlanda è divisa. Una parte cospicua, grande, la maggioranza sta con Giacomo, una parte minoritaria, ma non irrilevante, sta con Guglielmo. Perché? Perché una parte cospicua degli irlandesi è cattolica, ma una parte piccola, ma non piccolissima, degli irlandesi è ormai protestante. E questa divisione si vede anche dal punto di vista geografico, perché i protestanti sono più forti nel nord, i cattolici nel centro e nel sud dell'isola irlandese. Questa è la situazione. Tra l'altro, pochi mesi dopo la battaglia di Boeing, c'è un trattato che si chiama Trattato di Limerick, sempre filmato in Irlanda nel 1691, che stabilisce che siano riconosciuti i diritti civili dei cittadini cattolici. Perché, di fatto, la monatia cattolica è stata sconfitta. Voi ricorderete che nei mesi successivi ci sono tutta una serie di intellettuali inglesi che si scagliano contro il cattolicismo. Pensate ad esempio a John Locke nell'epistola sulla tolleranza che trovate, vi la linko in descrizione, Locke inglese, che torna in Inghilterra a seguito proprio di Guglielmo, scrive questa lettera sulla tolleranza in cui dice che bisogna essere tollerati con tutte le religioni tranne i cattolici. Quindi c'è, da parte inglese, anche nel centro intellettuale inglese, una forte, una dura reprimenda contro i cattolici che sono considerati inaffidabili, sono considerati forieri di guerre civili, sono considerati un pericolo per l'equilibrio dello Stato. Ecco, nel Trattato di Limerick che riguarda l'Irlanda si stabilisce che, per carità, lì i cattolici ce ne sono tanti, lì i cattolici hanno libertà di culto, possono rimanere cattolici, hanno i loro diritti civili, quindi si riconosce una tolleranza nei confronti dei cattolici anche se alla fine l'Irlanda rimane soggettata a uno stato protestante come l'Inghilterra. Ma, c'è un ma, si riconoscono i diritti civili dei cattolici, ma si fa in modo che il Parlamento irlandese, perché c'è un Parlamento anche in Irlanda, sia controllato sostanzialmente dai protestanti irlandesi, che pure sono una minoranza, ma hanno maggior peso politico alla fine delle decisioni irlandesi, e questo Parlamento controllato dai protestanti inizia a varare negli anni successivi delle leggi che certo riconoscono il Trattato di Limerick, che certo riconoscono i diritti civili dei cattolici irlandesi, ma in realtà sono leggi che vanno a punire, a indurire la situazione per quanto riguarda i cattolici irlandesi. Cioè, ci sono in Irlanda i protestanti che sono pochi, ma sono da un certo punto di vista sempre più privilegiati, e ci sono i cattolici che sono la maggioranza, che però, per quanto siano tollerati, per quanto abbiano formalmente dei diritti civili paritetici, iniziano a essere almeno in parte discriminati. Nei secoli successivi la situazione rimase più o meno stabile, nel senso che l'Irlanda continuò a essere a prevalenza, a grande prevalenza cattolica, continuò a sentirsi un corpo estraneo rispetto al Regno Unito, che andò creandosi proprio all'inizio del Settecento, faceva parte, certo, del Regno, faceva parte della Corona, ma si sentiva molto diversa dal resto del Regno, dal resto dell'Inghilterra, dal Galles, dalla Scozia. In più c'è da dire che l'Irlanda rimase profondamente povera, mentre l'Inghilterra già nel Settecento vide decollare la sua economia, nacque l'Industria, nacque la rivoluzione industriale, si sviluppò molto e da fine Settecento, inizio l'Ottocento, sicuramente l'isola britannica dell'Inghilterra con la Scozia divenne uno dei paesi più sviluppati, più ricchi del mondo, l'Irlanda rimase profondamente povera, rimase un paese profondamente agricolo, in cui non c'erano sostanzialmente industrie, e in cui, non solo agricolo, ma in cui l'agricoltura non bastava soddisfare le esigenze alimentari della stessa isola. Tenete conto che attorno alla metà dell'Ottocento, quando abbiamo parlato, e ve lo metto in descrizione, non solo della crisi economica, ma della crisi agraria di metà ottocento, l'Inghilterra fu colpita, ma l'Irlanda fu durissimamente colpita, molto più dell'Inghilterra, molto più del resto d'Europa. L'Irlanda coltivava soprattutto patate, e questa, ci fu una carestia proprio legata alla coltivazione della patata, tanto è vero che una buona parte, una buona fetta della popolazione irlandese morì di fame, di stenti, per dire quanto povero era questo paese. L'Irlanda, tenete conto, contava circa 6 milioni di abitanti, ma un milione morì per fame in quei pochi anni di grande carestia, e poi negli anni successivi un altro milione, un milione e mezzo di irlandesi lasciò l'isola per emigrare verso gli Stati Uniti, verso il Nord America. Per questo prima vi dicevo di questa grande comunità irlandese, soprattutto nell'area del cosiddetto New England, a Boston in particolare, è fortissima la minoranza, ma neanche tanto minoranza, di origine irlandese. Ecco, quindi un'Irlanda povera, un'Irlanda poco sviluppata, un'Irlanda principalmente cattolica, in cui comunque perdura la minoranza protestante. Ci sono i protestanti, ripeto, soprattutto al Nord, soprattutto al Nord, perché il Nord, soprattutto il Nord Est dell'Irlanda, è vicino, è la parte più vicina geograficamente all'Inghilterra e lì molto più spesso si fermavano i coloni inglesi, si erano fermati i coloni inglesi già dalle origini di questa colonizzazione già dal Cinquecento. Quindi, c'è un centro sud irlandese che si sente strano rispetto all'Inghilterra, c'è un nord irlandese che invece in parte si sente inglese più che irlandese legato al Regno Unito, legato alla corona britannica. La situazione si evolve nell'Ottocento, ho detto, a metà ottocento grande povertà, immigrazione, eccetera. Verso la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento complice tutta la situazione mondiale. In Irlanda, però, si sviluppa un forte movimento che chiede maggiore autonomia all'Inghilterra, al Regno Unito. è un'epoca di fine dell'Ottocento e inizio del Novecento che è l'epoca della Belle Epoque, l'epoca in cui tutte e poi le grandi potenze europee si lanciano in colonizzazioni di mezzo mondo, dell'Africa, dell'Asia, il suo Regno Unito arriva a possedere grandissime fette del mondo, l'Egitto, il Sudafrica, una lunga fascia, lungo tutta l'Africa, l'India, eccetera, e però in cui anche i popoli europei complici anche il romanticismo ottocentesco, lo slancio verso l'indipendenza dei popoli dell'Ottocento iniziano a dire che anche loro vogliono l'indipendenza. Tenete conto che quando abbiamo parlato del risorgimento italiano ad esempio nell'Ottocento, dell'unificazione tedesca sempre nell'Ottocento, questo sentimento di popolo, di nazione che si sviluppa in tutta Europa legato al romanticismo si sviluppa anche in Irlanda. come c'è il mazzinianesimo in Italia, come ci sono le spinte all'indipendenza in Ungheria, in Bohemia, eccetera, anche in Irlanda c'è qualcosa del genere. Solo che a fine Ottocento non si concretizza in nulla perché l'Inghilterra è un paese troppo forte, perché non c'è modo per gli irlandesi con la crisi economica che hanno subito di staccarsi dal Regno Unito. Però, però, a fine Ottocento inizio del Novecento le richieste iniziano ad esserci ad essere più pressanti e a favore degli irlandesi gioca il fatto che inizio del Novecento in Inghilterra avviene un grande sommovimento politico perché nel 1910 sale al potere un nuovo re che si chiama Giorgio V che sembra più favorevole ad alcune riforme complice il fatto che in quegli stessi anni è salito al governo un nuovo partito che è il Partito Liberale. Stanno formando le grandi stanze socialiste in Inghilterra sta nascendo il Partito Laborista ci sono le trade unions eccetera ma il Partito Liberale che è un partito un po' più moderato ma comunque aperto alle riforme rispetto al Partito Laborista chiede riforme. Il Partito Liberale chiede queste riforme le chiede per l'Inghilterra il sovranno Giorgio V sembra aperto alle riforme insomma qualche cambiamento avviene. Avvengono per quanto riguarda la situazione economica politica inglese ad esempio ne avevamo parlato anche in un video apposito che vi linko in descrizione arriva la riforma del sistema di tassazione inglese con imposta progressiva sul reddito che è una grande novità per l'Inghilterra ma poi appunto negli anni dieci si inizia a pensare a una riforma anche per quanto riguarda l'Irlanda. Il governo liberale infatti inizia a studiare un progetto per dare all'Irlanda una parziale autonomia. Questo progetto prende il nome di Home Rule governo di casa governo casalingo diciamolo così traducendo molto liberamente cioè all'Irlanda dovrebbero essere assegnati un Parlamento autonomo veramente autonomo quindi eletto dal popolo simile al Parlamento inglese che però riguarda l'Inghilterra per l'Irlanda un Parlamento autonomo la possibilità anche di varare delle politiche autonome rimanendo però sempre sotto la corona britannica cioè l'Irlanda farebbe parte sempre del regno quindi riconoscerebbe Giorgio V come sovrano irlandese ma avrebbe un suo Parlamento autonomo una sua forma di autogoverno di governo autonomo e quindi potrebbe perseguire delle linee politiche autonome in pratica far parte del Commonwealth come avviene ancora oggi in buona misura per molti paesi pensate al Canada che riconosce formalmente la corona britannica ma in realtà è uno stato decisamente autonomo con il suo governo il suo Parlamento eccetera qualcosa del genere si sarebbe dovuto creare anche in Irlanda la riforma è pronta la riforma sembra poter essere approvata anche se ci sono dei forti mugugni da parte degli irlandesi protestanti che non vorrebbero questo distacco dal resto del Regno Unito ma la riforma viene preparata nel 1914 e tutto viene sospeso perché nel 1914 come voi sapete c'è qualcosa di più grave a cui l'Inghilterra è chiamata a prestare attenzione qualcosa di più grave è lo scoppio della prima guerra mondiale scoppia la grande guerra e il governo britannico dice vabbè la riforma è pronta ma sospendiamola per il momento lasciamola nel cassetto la riprenderemo ne ridiscuteremo dopo la guerra perché adesso abbiamo altre questioni di cui occuparci quindi le grandi aspettative degli irlandesi cattolici per un'autonomia vengono per il momento frenate dallo scoppio della guerra gli irlandesi non accettarono molto facilmente questa pausa nei negoziati questa stoppa al loro progetto di autonomia anche solo parziale e anzi quando videro che l'Inghilterra aveva i suoi bei problemi il Regno Unito aveva i suoi bei problemi a fronteggiare la guerra mondiale perché la guerra mondiale andava per le lunghe perché la guerra mondiale aveva fatto milioni e milioni di morti e stava diventando una vera e propria carneficina gli irlandesi pensarono anche di approfittarne dissero qua ci hanno promesso tante cose non ci hanno dato niente ci sono impegnati sul fronte francese sul fronte occidentale non avranno le forze per reagire è il momento giusto per dichiararsi indipendenti per conquistarci sul campo la nostra autonomia perché il Regno Unito non potrà combatterci non potrà fermarci non potrà imperirci di dichiararci indipendenti così nella settimana di Pasqua del 1916 c'è il tentativo di proclamare l'indipendenza dell'Irlanda un gruppo di indipendentisti prende alcuni punti strategici di Dublino e dell'Irlanda proclamando l'indipendenza irlandese ne nasce un conflitto perché il Regno Unito non lascia correre manda l'esercito c'è qualche giorno di conflitto in realtà molto breve e tutti i capi della rivolta vengono arrestati perché in realtà è una rivolta anche non troppo bene organizzata diciamo non troppo ben studiata contando sul fatto che il Regno Unito non fosse in grado di reagire efficacemente in realtà il Regno Unito agisce efficacemente e in sei giorni viene sedata la rivolta i capi della rivolta vengono tutti arrestati vengono sottoposti alla corte marziale e quasi tutti vengono condannati a morte quindi l'Inghilterra il Regno Unito regisce col pugno di ferro anche perché la sua stessa opinione pubblica vede come un tenimento questo tentativo indipendentista degli irlandesi proprio nel mentre in cui si combatte la guerra mondiale finisce la guerra finisce la guerra mondiale intendo nel 1918 alla fine del 1918 e di nuovo gli irlandesi dicono vabbè è finita adesso applicate l'home rule quello che ci avevate promesso quello che ci avevate concesso già nel 1914 che poi non avete fatto l'Inghilterra però il Regno Unito è di nuovo in una certa difficoltà perché perché la guerra mondiale è stata catastrofica abbiamo detto è stata catastrofica per chi la persa ma è stata catastrofica anche per chi l'ha vinta il Regno Unito l'ha vinta la guerra mondiale però è davvero il numero di morti il numero di mutilati il numero di feriti i danni all'economia sono gravosissimi e sembra che il Regno Unito non abbia nessuna intenzione al momento di ritornare sulla questione irlandese ci sono ben alti problemi questa è l'idea l'aria che si respira tra l'altro a dicembre 1918 appena finita la guerra ci sono le elezioni per rinnovare il Parlamento si fanno un po' tutta Europa perché durante la guerra queste elezioni non state per lo più rimandate sospese eccetera si vota e si vota nel Regno Unito nell'Inghilterra nell'isola britannica si vota anche in Irlanda per mandare dei deputati al Parlamento di Westminster al Parlamento di Londra perché il Parlamento di Londra è il Parlamento centrale che raggruppa i delegati di tutto il Regno Unito dove si votano le leggi che valgono per tutto il Regno Unito quindi anche in Irlanda si vota per eleggere i rappresentanti che poi dovranno andare a Londra a rappresentare l'Irlanda ecco in queste elezioni del dicembre 1918 in Irlanda vince soprattutto un partito che è il Sinn Féin che è un partito indipendentista esiste ancora oggi partito che vuole l'indipendenza dell'Irlanda e i nuovi parlamentari eletti nel Sinn Féin decidono di non andare a Londra perché non vogliono riconoscere più il Parlamento Britannico il Parlamento Londinese si rifiutano oppure siano stati eletti di andare là e anzi danno vita a un Parlamento locale dicono noi ci riuniamo in Irlanda creiamo un Parlamento dell'Irlanda libera un Parlamento che abbia potere sull'Irlanda questo provoca di fatto l'inizio della guerra civile perché Londra non può accettare che una sua regione quella che lei considera essere una sua regione ti avvita un proprio Parlamento autonomo che pretende di poter legiferare e di fatto è un atto di serizione scopre la guerra civile questo conflitto che durerà dal 19 al 21 due anni dal gennaio 19 a luglio del 21 combattuto da una parte dagli irlandesi o meglio da una parte degli irlandesi dalla maggioranza degli irlandesi e dall'altra dai britannici dagli inglesi con l'appoggio però di una parte piccola degli irlandesi perché come vi dicevo quelle differenze tra irlanda cattolica e irlanda protestante rimangono gli irlandesi cattolici sono una grande maggioranza ma gli irlandesi protestanti ci sono non sono neppure trascurabili e sono stanziati soprattutto ripeto nelle regioni del nord nelle contee del nord questa guerra civile dura ripeto due anni vede da una parte l'esercito britannico che interviene in forza quindi un esercito anche organizzato forte che certo è stato piegato dalla guerra mondiale ma non è certo un esercito da sottovalutare dall'altro gli irlandesi danno vita a un loro esercito che prende il nome di IRA Irish Republican Army esercito repubblicano irlandese perché l'Irlanda vorrebbe diventare una repubblica ora questa IRA che avete sentito nominare mille volte perché ne parleremo anche negli anni 60, 70 e 80 del novecento nel prossimo video in realtà viene di solito chiamata dagli irlandesi Old IRA poi IRA è la sigla in italiano direi che in inglese sarà IRA credo onestamente non ho mai sentito pronunciare in irlandese in Italia è sempre chiamata IRA Old IRA perché vecchia IRA perché si usa questo old come aggettivo per differenziarla dall'esercito invece degli anni 60, 70 questo è l'esercito repubblicano che combatte per l'indipendenza alla guida di questa vecchia IRA c'erano vari personaggi ma probabilmente il leader più importante è Michael Collins un personaggio che avete sentito nominare perché c'è anche il film per dire che fu uno dei leader indipendentisti di questa fase la guerra civile fu abbastanza sanguinosa ci furono anche delle stragi e l'esercito britannico stesso si macchiò di alcuni atti contro la popolazione civile ma la stessa IRA si scelse una tattica di guerriglia con attentati anche con attacchi a sorpresa contro non solo contro l'esercito britannico ma anche contro la polizia che era a maggioranza spesso protestante insomma fu una guerra piuttosto brutale questa guerra civile e si concluse però nel 1921 con la nascita del cosiddetto stato libero di Irlanda i negoziati tra irlandesi e tra indipendentisti irlandesi e Regno Unito portarono a punta degli accordi in cui il Regno Unito riconosceva la nascita dello stato libero di Irlanda che era uno stato autonomo quindi aveva un suo parlamento aveva la possibilità di rifare le sue leggi eccetera però rimaneva nel Commonwealth quindi negli ex dominion britannici e riconosceva la corona inglese quindi il capo di stato rimaneva il sovrano inglese quindi c'era questa autonomia forte ma non totale in più soprattutto la cosa divisiva era il fatto che negli accordi tra gli indipendentisti e il Regno Unito si stabiliva che lo stato libero di Irlanda non corrispondeva a tutta l'isola irlandese ma corrispondeva a 26 contee ma ne rimanevano escluse 6 quindi 6 su 26 è circa un quinto circa del paese che costituivano la parte dell'Irlanda del Nord quella che oggi conosciamo come Irlanda del Nord l'Ulster che rimaneva sotto il Regno Unito la parte nord orientale dell'Isola Irlanda non orientava nei confini dello stato libero d'Irlanda e rimaneva legata al Regno Unito rimaneva parte del Regno Unito perché perché lì c'era una maggioranza protestante mentre nel resto del paese la maggioranza era cattolica c'erano magari delle minoranze protestanti qua e là ma minoranze appunto nell'Ulster in questa regione del Nord invece la maggioranza della popolazione era protestante con una minoranza cattolica e quindi quella regione negli accordi rimaneva sotto il Regno Unito questi accordi furono ratificati nel 1921 non furono però accolti benissimo né dai protestanti né dai cattolici perché questi accordi furono firmati appunto dalla delegazione degli indipendentisti irlandesi tra cui anche lo stesso Michael Collins che pare la firmò un po' controvoglia ma alla fine firmò l'accordo e una delegazione del Regno Unito ma poi bisognava che tutta l'Irlanda e tutto l'Ulster accettassero questi accordi e in realtà anche in Irlanda la situazione portò a una grande spaccatura il Parlamento irlandese si spaccò sulla accettazione non degli accordi alla fine vinse sì ma di stretta misura e anche l'Ira l'esercito si spaccò tra chi voleva questi accordi e chi invece ne era rimasto molto deluso perché delusi perché molti irlandesi dicevano questo è un tradimento abbiamo perso un pezzo del paese l'Ulster rimane in mano al Regno Unito abbiamo rotto l'unità dell'Irlanda l'Irlanda era un'isola era sempre stata unita pur nelle differenze appunto di popolazione che vi ho detto adesso di fatto un'isola veniva spaccata con una piccola parte ma non piccolissima che rimaneva dominio britannico quindi una parte del Parlamento irlandese una parte dell'esercito irlandese avrebbe voluto continuare la lotta continuare la guerra per conquistare anche questi territori il problema è che non era chiaro se ci sarebbero riusciti perché la guerra era stata dura il Regno Unito era forte come esercito non era per nulla chiaro se l'Ulira sarebbe riuscita a conquistare anche l'Ulster anche perché poi nell'Ulster la maggioranza della popolazione era ostile ai cattolici e ai tentativi di indipendenza dal Regno Unito insomma questo accordo portò a una frattura e ne nacque una guerra civile una guerra civile che durò circa un anno dal giugno del 22 al maggio del 23 quindi durò meno della guerra di indipendenza durata due anni ma fu molto più sanguinosa ne morirono di più durante questa guerra civile tra irlandesi e irlandesi di quanto non ne fossero morti prima tra irlandesi e inglesi una guerra civile combattuta dalle due diverse fazioni tra chi era favorevole e chi era contrario agli accordi una guerra civile che portò anche alcune morti eccellenti morirono alcuni dei più importanti leader indipendentisti irlandesi lo stesso Michael Collins che vi ho citato prima ci sarebbero altri nomi da fare ma adesso non ne faccio se no non finiamo più e alla fine si concluse con una situazione in realtà comunque calda per tutti gli anni 20 per tutti gli anni 30 l'Irlanda fu divisa fu fonte anche di scontri di lotte intestine piuttosto forti la situazione non fu pacificata certo negli anni 30 qualcosa poi iniziò a cambiare ad esempio nel 37 ci fu una revisione della costituzione irlandese che portò alla nascita dell'Eire questo nome che esiste ancora oggi che avvicinava lo stato irlandese a una repubblica anche se formalmente rimaneva ancora il ruolo del sovrano ma era un ruolo davvero solo di rappresentanza ormai quindi l'Irlanda faceva un passo deciso verso la forma repubblicana e alla fine nel 1948 dopo la seconda guerra mondiale sarebbe arrivata proprio la repubblica vera e propria l'Irlanda sarebbe uscita dal Commonwealth avrebbe proclamato la propria indipendenza totale anche dalla corona britannica e sarebbe nata la repubblica oggi l'Irlanda proprio grazie a questa riforma del 48 è una repubblica quindi il suo presidente della repubblica non ha più alcun legame politico e amministrativo con il Regno Unito almeno l'Irlanda intesa come Eire come Repubblica di Irlanda l'Irlanda del Nord ancora oggi invece è parte del Regno Unito insieme alle altre nazioni insieme a Galles all'Inghilterra e alla Scozia ecco questa divisione che si stabilisce appunto nel 22 e va avanti per negli anni 30 e 40 con qualche attrito permane permane con qualche tensione permane con qualche dissidio ovviamente perché nell'Uster c'è una maggioranza protestante ma c'è una minoranza cattolica non irrilevante ci sono anche alcuni protestanti nel resto d'Irlanda le tensioni ci sono ma diciamola così fino agli anni 60 del 900 la situazione è abbastanza sotto controllo poi a partire dal 1968 invece questo controllo sfugge soprattutto nell'Uster nasce una vera e propria guerra civile ma di questa guerra civile parleremo in un video apposito perché come vedete il minutaggio è già abbastanza abbondante e c'è invece molto da dire per il momento dunque ci fermiamo qua abbiamo detto dell'Irlanda fino a metà 900 e abbiamo dato una panoramica certo veloce non è un video chissà quanto approfondito sulla storia d'Irlanda ma è probabilmente di più di quello che trovate già nei manuali delle superiori c'è di meno insomma e direi anche abbastanza rispetto a quello che si fa anche all'università quindi è già una panoramica che mi sembra più che sufficiente poi se volete approfondire vi lascio come al solito in descrizione qualche suggerimento di lettura per leggere qualcosa in più per andare ancora più nel dettaglio in descrizione poi tra l'altro trovate anche il link agli altri video che ho citato e alle risorse alle playlist come dicevo all'inizio ai social network e tutto il resto in più sempre in descrizione trovate anche i titoletti che sono comparsi qui mentre parlavo in modo da poterli ascoltare un pezzo del video se lo volete basta ci vediamo presto per andare avanti per fare anche finalmente il discorso che è quello più caldo quello riguardo alla diciamola così al conflitto nordirlandese alla guerra a bassa intensità alla guerra civile strisciante che attraversò l'Irlanda del nord per circa 30 anni e ne parliamo la prossima volta ciao alla prossima ciao a tutti